Marco, lei rischia fino a 24 anni di carcere. Cosa si aspetta martedì? Io spero che la Corte Costituzionale riconosca come una libertà fondamentale, quindi un diritto, il decidere di poter interrompere la propria sofferenza nelle fasi finali della propria vita, anche attraverso l'eutanasia e il suicidio assistito. E' comunque già di per sé un successo essere arrivati alla Corte Costituzionale? Credo sia la prima volta in Europa che una Corte a livello costituzionale si pronuncia. Io penso di avere fatto il mio dovere aiutando Fabo a ottenere quello che voleva. Naturalmente possono anche i Parlamenti muoversi per riconoscere questo diritto ed è da sempre stata una nostra richiesta. Peraltro c'è una legge sulla legalizzazione dell'eutanasia ferma in Parlamento da cinque anni. L'Italia è troppo conservatrice. Perché non arriviamo a parlare, a discutere di questa proposta di legge? Tutti i sondaggi dicono che l'opinione pubblica è favorevole, è la classe politica a essere rimasta indietro su questo tema come su tanti altri. La classe politica siamo noi però, in fondo è una espressione dei cittadini, quindi qualche cosa c'è che blocca... Tutti i sondaggi dicono che le maggioranze sono a favore della legalizzazione dell'eutanasia in modo molto consistente. Quello che blocca è che i vertici dei partiti non hanno interesse a discutere questo tema perché spacca trasversalmente i partiti, le maggioranze e le opposizioni. Ed è per quello che siamo stati costretti a avviare un'azione di disobbedienza civile di fronte all'inerzia del Parlamento che non è riuscito nemmeno a discutere per un minuto di eutanasia dopo cinque anni che abbiamo depositato la legge. Cosa significherebbe per lei arrivare comunque a discutere questa proposta di legge? E cosa significherebbe per l'Italia in fondo? Ormai con il progresso della medicina sempre di più le persone hanno bisogno di poter decidere nella fase terminale della propria vita che è sempre più lunga e dipende sempre di più dal rapporto con la tecnica, gli apparati medici. E quindi significherebbe finalmente avere un dibattito su quali sono le libertà di scelta fino alla fine della propria vita. È un tema molto controverso sicuramente. Però in Italia, comunque siamo arrivati ad un compromesso l'anno scorso, nel dicembre dell'anno scorso, approvando le cosiddette DAT. È stato comunque un passo avanti questo? Beh certo, la legge sul testamento biologico e la sospensione delle terapie in Italia, come anche in Francia e in altri paesi europei, dà il diritto a staccare la spina, a rinunciare a una terapia. Il problema è per quei malati che sono anche in fase terminale e sottoposti a una sofferenza insopportabile, che però non dipendono da una macchina o da una terapia salvavita e allora non si capisce perché per quelle persone non debba essere possibile interrompere le proprie sofferenze. Perfetto, io direi che per quanto...